Benvenuti in Campidoglio innanzitutto. Allora, forse lo sapete già, ma questo luogo è un luogo che è sempre stato un luogo di supereroi, di supereroi della storia. Qua è nata la leggenda di Roma, quella leggenda millenaria che poi ha portato Roma a diventare la nostra capitale e poi la cosa più importante è che qui è nata l'Europa, proprio in questo posto, in queste sale, nel 57. E voi siete cittadini di tutto questo. Siete cittadini dell'Italia, siete cittadini dell'Europa, ma siete anche romani. Ogni mattino, mi raccomando, quando entrate nelle scuole, guardate in alto, cercate queste due bambiere bellissime che giocano nel vento, guardatele, e loro fanno parte di quel quotidiano come fanno parte le vostre matite, i vostri libri e i vostri giochi. Bene, loro devono entrare dentro di voi e questi colori devono diventare i vostri colori. Queste bambiere sono un simbolo importante, un simbolo che è stato possibile realizzare grazie all'unione di tante realtà, grazie alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, grazie all'Associazione Nazionale Alpini, all'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, al Ministero dell'Istruzione, ai Municipi, grazie a tutta Roma. Vi ringrazio di cuore anche. Come ringrazio tutte le vostre famiglie, perché sono sicuro che contribuiranno a fare in modo che questi colori diventino i vostri colori.